Mar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it Mar Sport è un programma offerto da Grazie a tutti Argomenti di diversa natura, non soltanto calcistici, non soltanto per quanto accaduto sul campo con le due espulsioni Ed è andato anche un quasi, sarà sicuramente un caso nazionale L'espulsione del record di Simone Brugaletta dopo appena tre secondi di gioco Credo che non sia mai successo nella storia del calcio Che un calciatore venga appunto espulso direttamente dopo tre secondi di gioco dopo il calcio di inizio A memoria non ricordo nessun precedente di questo genere Ma dobbiamo parlare anche di quello che è successo oltre il rettangolo di gioco Della crisi societaria, dei problemi dello stadio Presti, della tribuna che è inagibile Delle difficoltà anche di noi operatori nel poter svolgere un servizio per i nostri ascoltatori Per i nostri lettori, per chi ci segue non soltanto Gela Ma anche oltre questi confini cittadini E quindi gli argomenti sono veramente tantissimi Quindi non perdo tempo e do subito il saluto ai nostri ospiti Che sono più del dovuto questa volta Ma ripeto, con tanti argomenti da affrontare È giusto poter dare spazio a tutti i nostri ospiti E ai vari ruoli anche della società Non soltanto di quello di tipo agonistico Ma anche di quello di tipo dirigenziale e amministrativo E quindi con piacere che saluto gli ospiti che sono qui in studio Ovvero intanto cominciamo come sempre da Chiara Benvenuta Chiara Ciao Fabrizio, un saluto a chi ci sta seguendo Accanto a Chiara c'è ovviamente Franco Gallo Che saluto come sempre caramente Ciao Franco Ciao Fabrizio, buona serata a voi E visto che siamo più del dovuto Io dopo aver salutato mi alzo e me ne vado A giuricato Accanto a Franco c'è Franco potete il microfono Croci ha un altro microfono Che è quello argento Lo abbiamo distinto anche di colore Accanto a Franco appunto c'è il direttore generale del Gela Croci Cailo Buonasera Croci Ciao Fabrizio, grazie dell'invito Buonasera a tutti E accanto a Croci c'è Torna a trovarci anche Giovanni Martello Ciao Giovanni Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori Allora, dicevo Non so neanche Chiara dove cominciare Perché sono talmente tanti gli argomenti Che dobbiamo affrontare Che c'è l'imbrazzo della scelta Però siccome noi abbiamo sempre un protocollo Abbiamo una scaletta molto formale Iniziamo dal dire che cosa è successo E Franco è felicissimo di sentire che è successo ieri Sì, venticinquesima giornata di campionato Che ha visto la vittoria dell'Ige Virtus Per 4-2 in casa della Cittanovese Pareggio per 1-1 tra Gelbison e Vibonese Vince il Paceco 2-1 contro Isola Capolizzuto Prossima avversaria del Gela Vince anche l'Ebolitana In casa del Portici per 1-0 3 pari tra Rocella e Palazzolo 0-0 tra Troina e Messina Vince l'Ercolanese in casa della Cireale Per 2-0 Vince la Nocerina 1-0 contro la San Cataldese Pareggio il Gela in casa 3 pari contro la Palmese Dei risultati che vedono Il Troina sempre in vetta alla classifica Quota 52 punti Segue la Vibonese a 51 Con la Nocerina 50 per l'Ige Virtus 45 per l'Ercolanese 36 per Gela e Cireale 35 per San Cataldese e Messina 34 per Gelbison 31 per Cittanovese 27 per il Portici 26 per la Palmese 24 per Palazzolo e Debulitana e Rocella 16 per il Paceco Chiude la classifica 12 punti Isola Capolizzuto Questo quanto accolto ieri un po' in tutti i campi A noi interessa invece capire cosa è successo ieri invece allo stadio Vincenzo Presti Ovvero questo pareggio 3-3 Così come la Gadi è andata con la Palmese Che continua a portarci poca fortuna Visto che non l'abbiamo mai battuta Nei quattro precedenti Beh un solo successo anche dei calabresi Insomma Poi tre pareggi Tutti sempre carichi di gol 3-3 all'andata 3-3 al ritorno Ma ieri è stata una gara veramente Io la definisco un po' surreale Ci ho pensato un po' tutta la notte Può sembrare strano Non riuscivo a capacitarmi di una partita così veramente Di una partita così strana Con quello che è successo dopo tre minuti Io non so Tre secondi Non so se ritenete anche voi il caso Di far parlare subito le immagini Perché insomma Dobbiamo partire proprio da quello Dai tre secondi Intanto da una tribuna D'esolutamente vuota Una curva neanche molto piena E anche poi da Dai noi operatori di informazione Che abbiamo lavorato in condizione Veramente incredibile Non mi era mai successo neanche questo Dai tempi della Juventina Calcio Forse nell'83-84 Avamo sopra Gli spogliatoi Attuale ex palestra A volte lavoravamo lì Però adesso La famiglia Giugno è diventata La nostra tribuna stampa Ringraziamo ufficialmente Chiara La famiglia di Filippo Giugno Gentilissimi Gentili e ospitali Grazie a loro che abbiamo potuto garantire Un servizio giornalistico Perché altrimenti non avremmo potuto farlo Quindi mi scusa anche per la voce Tra l'altro non sto molto bene Questo capita anche quando devi Lavorare dal balcone di un palazzo Però per il gel a calcio E per i tanti tifosi che Sono tra l'altro anche fuori E seguono questi colori E giusto anche Arrangiarsi in qualche modo E ripeto Ringraziamo la famiglia Giugno Per la grandissima ospitalità E credo che purtroppo Non sarà l'unica volta In cui dovremmo chiedere Chissà Se di nuovo a loro All'altra ospitalità Perché io Non sono così ottimista Sulla riapertura immediata In tempi brevissimi Della nostra tribuna stampa Prossima gara il 18 marzo Siamo qui Verificheremo insieme Ovviamente vi daremo Contezza e notizia Cominciamo dal calcio giocato Cominciamo da questa Benetta partita Ed è quanto è successo ieri Una partita che È stata affidata Ad una signora Vitulano Di Firenze In realtà È Della sezione Di Livorno Lei vive al Livorno Una donna che tra l'altro C'è stata anche cultura A casa del caro Giovanni Laureate in ingegneria Sono preparata Sono molto preparato Hai studiato anche Sulla signora Assolutamente sì Hai studiato anche sulla signora Quindi facciamo vedere Le immagini di questa partita Veramente Assurda Dico assurda Perché Ha ragione Secondo me Tarnò Quando dice che In 11 contro 11 In 10 contro 11 E forse anche In 9 contro 11 Questa gara Il gelala avrebbe Stravinta Non vinta Ma stravinta Tant'è che Posso Diciamo anche Svelare un piccolo segreto Grazie anche a Giovanni La Palmese Ci ha chiesto La cortesia Di avere Tutta la partita Perché abbiamo commesso Tanti errori Che dobbiamo riguardare Quindi Loro stessi Ammettono Che questa è una partita Che loro hanno giocato Malissimo Non so se Per metodo del gelala Io credo comunque di sì Dove è stata La terza vittoria consecutiva Mastichiamo Amaro È arrivato Un pareggio Queste sono le immagini Nella partita Tanto per farvi vedere Quanto è successo I gol Però noi Tra poco Ci soffermeremo Con voi Più volte Anche sulle immagini Che abbiamo selezionato E vivisezionato Sull'espulsione Di Brugaletta E quella di Chidichimo Soprattutto Quella di Simone Brugaletta È un'espulsione Che sta facendo Un po' il gioco Dell'Italia Perché non succede Così spesso Che insomma Un giocatore Venga espulso Dopo appena Tre E il record mondiale Mondiale Lo immaginavo Lo immaginavo Perché insomma Non succede così spesso Questo è Il gol del pareggio Di Gagliardi Giovanni Quei nove Che hanno giocato Diciamo subito Metano Non un applauso Di più Di più Perché sono stati stoici Sono stati bravissimi Generosi Hanno messo il cuore e l'anima Cioè Metano veramente Tantissimo Soltanto elogi Ma Vogliamo Iniziare Dall'arbitro Oppure Iniziamo Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Cominciamo dai ragazzi I ragazzi Sono stati Veramente Fantastici Hanno dato Tutto Hanno fatto Una gran Bella partita Quello che noi Sempre Chiediamo Che vogliono I tifosi Cuore Grinta Determinazione E ritengo Ritengo anche Delle belle Giocate Veramente Vanno I nostri Complimenti I complimenti Della società Ai ragazzi Perché È anche giusto Sottolineare Che La mattina Domenica mattina Il 90% Della squadra Era in infermeria Con febbre Virus intestinali E vomito E diarrea Quasi tutti 9 o 10 Undicesimi Hanno dovuto Fare Delle flebbo Delle punture Di bentelan Marco Cuomo Aveva la flebbo A 38 E quindi I ragazzi Si sono Sacrificati Hanno dato Veramente Tutto Anzi di più Veramente Un elogio È quello Che Noi Vogliamo Sempre vedere Veramente Ragazzi Qui ieri Non c'è Solo Non c'è Che solo Da fargli Complimenti Io prima Di proseguire Mentre vediamo Le immagini Vorrei leggervi Un messaggio Che stamattina Ha voluto Mandarmi Stamattina Con molta amarezza Ovviamente Simone Brugaletta Perché Simone Credo sia Distrutto E consapevole Anche di aver commesso Una leggeressa Chiamiamola così C'è rimasto male Perché Sta notando Ancora oggi Che la sua espulsione È diventata Un caso nazionale Se ne parla in tutta Italia C'è rimasto male Per il termine usato Gomitata Non è una gomitata È una manata Ma infatti Noi abbiamo detto Più volte Chiedo anche a Franco E Chiara Più che un gesto Violento Quello di Simone Brugaletta È una ingenuità Colossale Adesso la rivedremo In tutte le salse Con rallenti Se volete Commentare prima O volete vedere Le immagini Insieme a me Però Simone Ha commesso Una grave leggerezza Sotto gli orchi Del direttore di gara Poi da signore Vitulano Vi sveleremo Anche altre cose Simone mi scrive Stamattina Che ci è rimasto male E in ogni caso Ci tenevo a specificare Questo messaggio Che vi leggo Così che l'ho mandato Stamattina a me Sapete quanto Lottato E lotto per onore Questa maglia Questa città E questi colori Giocato spesso Da malato E infortunato E ho dato sempre Il 100% Mi sarei aspettato Un po' di protezione Da parte vostra Perché ho fatto Un gesto Sì da condannare Perché è un ragazzo Intelligente Ma come le immagini Mostrano E le vedremo Vengo colpito Con due pugni Allo stomaco Sarebbe meglio Zoomare Lui dice La calcio d'inizio Così si vede meglio E non do Nessuna gomitata Ma lo accompagno Con una manata Non così violenta Tant'è che lui Continua a camminare E poi si getta A terra per morto Ho sbagliato Dice Simone Brugaletta Ma voi mi conoscete E in sei anni di carriera Ho preso Soltanto qualche ammunizione Mai una squalifica Diretta Presumo Un'espulsione diretta Voleva dire Ho reggetto di impulso Perché in seguito Ai pugni Non riuscivo neanche A respirare E non ho capito nulla Quindi E amareggiato Aggiunge Questo vale Per il direttore Regionale Che è qui presente Chiedo scusa A società E compagni E tifosi Perché in ogni caso È un gesto Da condannare E qualunque provvedimento Disciplinare Verrà preso Nei confronti Lo accetterò Come giusta Che sia Come giusto Che sia Mi pare comunque Una dichiarazione Di un calciatore Che dimostra In ogni caso Franco Chiara Di essere un ragazzo Maturo e intelligente Seppur Ammette Di aver commesso Una costa ingenuità Ma io Ieri L'ho detto Pure in conferenza Stampa All'allenatore Mi stupivo Del fatto Che da parte Di Simone Brogaletta Che abbiamo avuto Modo di conoscerlo In questi due anni È sempre stato Un calciatore Abbastanza morigerato Pacato Sempre corretto In campo Un gesto così In consulto Tra l'altro Dopo appena Un paio di secondi All'inizio della partita Forse in consulto Un po' eccessivo Come termine Per com'è Per com'è E' stato descritto Perché tra l'altro Io Devo dire la verità Non l'ho neanche visto In quel momento Perché la partita Era iniziata Da così poco tempo Che stavo leggendo Ancora la distinta Della squadra Ospite Per cui non me ne sono Reanche resa conto Riandando a guardare Le immagini Devo dire che Sicuramente è evidente Che c'è questa manata Però Io credo assolutamente Nella buona fede Di Brogaletta Ma perché ripeto La condotta Di questo giocatore In questi due anni E' sempre stata Quasi ineccepibile Ci può stare Che lui abbia reagito Di istinto E di impulso Perché magari Anche considerando Il momento Abbastanza delicato Abbastanza particolare Della stagione Però Non credo Che ci sia da condannare Brogaletta O la colpa Sia da addossare Esclusivamente A Brogaletta Per quello che ha fatto Su Chidicimo Va aperto una parentesi diversa Invece Su Chidicimo Già è diverso Perché Poi ne parliamo Poi ne parleremo Però ripeto Su Brogaletta Sì come ha detto Anche lui stesso È da condannare Il gesto Però Si può anche accettare Nel senso Ripeto Soprattutto da uno Come lui Che ha sempre avuto In campo Un atteggiamento Più che corretto Nei confronti Degli avversari Franco Il fatto che Simone Chieda scusa E non si difenda Soltanto per spiegare Le ragioni Del gesto Conferma Diciamo La serietà E la grande umiltà Della persona Prima ancora Che Del calciatore L'ha fatta La stupidaggine L'ha fatta Perché l'ha fatta Due volte Nel senso che Quel braccio Allargato c'è E c'è Soprattutto un arbitro Che ha un centimetro E mezzo dai due giocatori Cioè lo fa davanti All'arbitro Ed è però una sciocchezza Fatta Ripeto Da un giocatore E da una persona Molto molto educata E seria A quale si è sempre dimostrato E anche con una certa esperienza Con una certa esperienza Certo E il fatto che Che comunque Lui abbia Abbia fatto una stupidaggine E sia letteralmente Caduto nella trappola Lo dimostra il fatto Che chiede scusa a tutti A tutti Quindi comunque Lui è consapevole Poi c'è però La valutazione Di un direttore di gara Inadeguato Un direttore di gara Che voglio essere io Elegante Per definirla Inadeguato Perché dovremmo Se non rischiare Per la prima volta Nella nostra carriera Di parlare Di una cosa Della quale noi Fabrizio tu sai Non abbiamo mai voluto Nemmeno accennare C'è la malafede Di un arbitro Perché se dovessimo Accettare l'idea Che c'è Anche un briciolo Di malafede Dovremmo smettere Di fare questo mestiere Dovremmo smettere Di credere nel calcio Dovremmo smettere Di seguirlo E parlarne Quindi Devo dire che Per la prima volta Però questa signora Mi ha fatto pensare male Ieri a proposito Di buona e malafede Dopodiché Cosa ti devo dire Che Lo stesso Alessandro Pellicori Allenatore della Palmese A fine gara Chiacchierando Nell'antistadio Prima che venisse Nella sala stampa A rilasciare le interviste Mi ha detto Beh effettivamente Ti devo dire che Non è che è esagerato Quella espulsione È qualcosa di più Che è esagerato Io nella mia lunga Carriera di calciatore E nella mia breve Carriera di allenatore Mai mi era capitato Di vedere un arbitro Che dopo tre secondi Espelle un giocatore Per una reazione simile Persino il giallo Sarebbe stato già Bastevole Un arbitro intelligente Fa quello Lo ammonisce Ma che la signora Vitulano ieri Era in una giornata Particolarmente Ispirata Diciamo così E poi dobbiamo rivedere Anche il fuorigioco Al novantaquattresimo Quattresimo Quattro giocatori In fuorigioco E diciamo La chiusura del cerchio Il gol del 3-3 In netto fuorigioco È semplicemente La chiusura Di un cerchio perfetto Io voglio andare oltre Però Franco Io credo E qua forse Lo so che non sono Le due cose collegate Credo che abbia inciso Nella testa di questa signora Il comportamento Dei giocatori del Gera Perché lei si è sentita Continuamente offesa Dai nostri giocatori Secondo me Un po' di pregiudizio Psicologico Magari involontario Nel corso della partita C'è stato Dice anche nel caso Delle espressione Di Borgaletta Dove appena No quello no Perché Teranova In sala stampa Teranova dice Mi ha detto A fine partita Insegni l'educazione Sui giocatori È un'affermazione Anche molto grave Ascolta Io tutte le volte Che sono venuto ospite A Bar Sport Sono stato distante Fisicamente Dalla postazione Dove c'è Chiara Giusto stasera Sono vicino E quindi rischio Di ricevere Un manrovescio Dopo quello che dirò Però io sento di dire Che praticamente Ieri c'è stata Una dimostrazione pratica E io ho un rispetto Che le donne Non possono fare l'arbitro Che le donne Non possono arbitrare Il calcio maschile L'ha detto anche lei In diretta Io non so Però Non ne fate altro Non gli arbitri di calcio Perché ieri Tra l'altro Non so se tutti Siamo notiziati Alla stessa maniera Ma ieri in Sicilia Tre donne hanno rovinato Tre partite di calcio Di serie D A Cireale Colanese Due espulsi Pure A Cireale Colanese Intanto è espulso Un giocatore della Cireale Al settimo minuto Del primo tempo Per non un fallo Di reazione Ma perché semplicemente Nel fallo subito C'è praticamente Anche lì Una manata Quasi istintiva Per il gesto E viene espulso Un giocatore della Cireale Lasciando la squadra di casa In dieci Al settimo Del primo tempo In Paceco Isola Caporizzuto C'è un'altra signora Che praticamente Fa andare su tutte le furie Entrambe le squadre Perché spelle due giocatori Uno per parte E ancora si stanno chiedendo Il perché Adesso Ripeto Siccome mi voglio imporre Assolutamente Di non pensare Alla mala fede No no Prima ancora Di non sembrare sessista E purtroppo Risco di sembrarlo Per quello che sto dicendo Ma siccome voglio Assolutamente Ancora una volta Scacciare da me Il pensiero della mala fede Devo dire che le donne Non sono tagliate Per arbitrare il calcio maschile Perché ti aggiungo Questo concetto Perché a fine gara Il tecnico del Gela A Terra 9 È venuto in sala stampa Arrabbiatissimo Perché ha detto Io Non posso sentirmi dire Da un arbitro Prima che insegnare calcio I suoi giocatori Insegni l'educazione Ora la signora Vitulano Non è che è venuta A fare una lezione All'Accademia della Crusca È venuta ad arbitrare Una partita di calcio Dove se ne dice Tutti i colori Quando giochiamo Dieci amici Intimi a calcetto Finisce che si rischia Di finire con le mani Perché il calcio Ha questo potere Positivo o negativo Che sia Di tirare fuori Tutto il peggio Il meglio Il brutto Il bello Che c'è dentro una persona Ora questa signora Ma si immaginava Che in una partita di calcio Lei tra l'altro Ti devo aggiungere Credo che sia Per una questione Di limiti d'età Il suo ultimo anno In Serie D E mi sa che finisce lì E bravo Franco Posso pensare Che lei Prima di chiudere La sua carriera Voleva entrare Nel Guinness dei primati O nella storia del calcio Con un gesto Che potrebbe per esempio Diventare L'espulsione più veloce Della storia Chi l'ha fatta nel calcio Carina Susanna Vitulano Di Livorno Di Firenze Che dir si voglia Fabrizio Io non ci posso credere Che questa signora Ieri ha arbitrato serenamente Nel senso che ha arbitrato A applicando il regolamento B pensando di non fare danno a nessuno C cercando di fare il meglio Del suo operato Non ha applicato queste tre regole Lei ha arbitrato Secondo me Non serena Non volendo fare il bene Del suo lavoro Non l'ha fatto E non l'ha fatto Talmente non l'ha fatto Che al 94 Dopo che aveva già combinato Disastri inarrabili Ha continuato ancora A perseverare Facendo Diciamo Convalidare quel gol Che le immagini Poi non so se le vedremo ancora Dimostrano che era In nettissimo fuorigioco Quindi Mi spiace dirlo Ma alle donne È meglio che facciano Come dice Chiara Qualcos'altro Che non l'arbitro di calcio Soprattutto maschile Sì Intanto arrivo Tantissimi messaggi Alcuni sono anche di saluto Dal nostro direttore sportivo Dall'Aquila Non so se è amici all'Aquila Mi pare di aver sentito Salamone Arcangelo Salamone Angelo Salamone Dall'Aquila Mi pare sentito Comunque Ma poi insomma Stanno tutti già intervenendo Su questo argomento Mentre Chiara Cerca di sintetizzare Raccogliere tutti questi messaggi Allora Andiamo a vedere Bene Questa Questa espulsione record L'abbiamo proprio Disezionata Proprio dal Calcio d'inizio Con Il nostro Mike Licitra Che ringraziamo Per averci rimandato Il frame Tre secondi Sono contati Questo è il calcio d'inizio Vi assicuro Ci sono tanti replay Quindi non ci saranno problemi Per farlo rivedere Tante volte Chi lo batte Il calcio d'inizio Non manco lo ricordo Guardate l'arbitro Brugaletta È artistico Chi è artistico È artistico È artistico Giovanni Tieni il microfono Guardate Guardate i due Guardate Si guardano Stanno vicino Petto contro petto Lui dà Una piccola spintona Sul fianco di Brugaletta Brugaletta lo spinge Come se lo esse Toglie sulla vicina Se lo fai rivedere Rimane Si vede Si vede No no Se vai indietro Adesso lo rivedremo Tante volte Guarda Ecco qua Lui non lo fa passare davanti Si spingono Mi sembra Stattonamente normale Il signore artistico Prosegue Cammina Ecco Questa è l'altra malizia Artistico Che va verso indietro Guarda l'arbitro Pensa che l'arbitro Ha visto Si butta a terra Ma inizialmente Cammina Qua c'è un replay Molto Indicativo Che fa proprio notare Come artistico In un certo punto Si allontani Cammina verso All'indietro Si accorge che l'arbitro Si è girato Guardatelo adesso Lui appena si accorge Che l'arbitro Si è girato Le immagini Non lo chiedesse Perché lo abbiamo Rallentato tantissimo Purtroppo Purtroppo a condannare Guarda Guarda Lui cammina Lui cammina normalmente Guarda Vede che l'arbitro Si è girato Guarda Adesso si butta a terra Per morto Ha ragione Simone Brugaletta In questo C'è anche la malafere Dell'avversario Sicuramente Io ci ho parlato Con artistico A fine gara Ci ho parlato Gli ho chiesto Mi vuoi raccontare Come è andata E mi ha detto Guarda La prima cosa Che mi ha detto Prima di raccontarmi Sono molto dispiaciuto Per Brugaletta Perché capisco Che lavorare una settimana Per preparare una partita E vedersela durare Tre secondi È drammatico Però Mi ha spiegato Che praticamente Secondo la sua versione Simone lo guardava Sin da quando Praticamente C'era la palla Ancora ferma Al centrocampo Dice ogni movimento Che facevo io Lui lo eseguiva A specchio Praticamente Mi stava letteralmente Lui dice aspettando Quando io ho provato A fare il pressing Lui mi è venuto incontro E mi ha dato una manata Io durante la partita Fabrizio Ti avevo detto Che secondo me L'arbitro Era stato indotto A dare il cartellino rosso Perché poi Avevamo notato Che è artistico Aveva giocato Per tutto il corso del match Con un tampone al naso Allora ho pensato Sinceramente Per dare anche Una spiegazione Alla illogica Noi eravamo distanti Dico ma vuoi vedere Che magari avrà visto Uscire sangue dal naso E a quella vista Ha estratto il cartellino rosso E invece no Lo stesso artistico Mi ha detto No no guarda Il naso è stato frutto Di un altro scontro Dieci minuti dopo Brugaletta Mi ha toccato Con la mano Vicino alla tempia Adesso ripeto Il gesto purtroppo Di Simone È evidente Con la mano Che si allunga E che va verso Il capo Di ecco guardate Lì purtroppo Mica possiamo Guarda che guarda l'arbitro Lui Prima di cadere a terra Ma lui fa una Una sceneggiata Da artista Visto che si chiama artistico Perché Perché fa questa sorta Di camminata Va praticamente verso l'arbitro Ma secondo voi Con un giallo Chi si sarebbe lamentato Ma sarebbe stato già Ripeto Eccessivo forse Tanta roba Il giallo era già tanta roba Guarda Dopo tre secondi Non ti dà forse manco il giallo Ecco Fabrizio Fermo restando Che Simone Ha sbagliato Lui lo sa E Simone è un ragazzo D'oro Un ragazzo Per bene Un professionista Esemplare Un ragazzo Che tutti Ogni direttore sportivo Vorrebbe squadra Un esempio Di correttezza Purtroppo è stata Una leggerezza Una leggerezza Pagata Nella trappola Pagato Pagato a carissimo prezzo Guarda dove l'arbitro Giovanni Se fosse stato Anche lui sereno Voglio dire Si sarebbe accorto Che non era possibile Nemmeno allungare un braccio Davanti all'arbitro L'arbitro è praticamente In mezzo ai due giocatori Se Brugaletta Allunga ancora di più La manata La dà all'arbitro Più che al giocatore La manata Guarda Fermo restando Della leggerezza Di Simone Il quale sicuramente Non ha dato Né cazzotti Né gomitate È giusto Sottolinearlo Io non so che ho parlato Però di gomitate Perché non so se A chi si riferisce Brugaletta Certamente Non a chi siamo qua No no Nella gazzetta Purtroppo nella gazzetta Dello sport Dello sport Dello sport Bisogna Nella gazzetta Dello sport Sì assolutamente Ripeto è un record mondiale Il record italiano Spettava Ma chi è che c'era Per la gazzetta Dello sport Non lo so Comunque Detto questo Detto questo Detto questo Ribadisco Ritengo che noi ci siamo Imbattuti In una Zelante Signora A fine carriera Una zelante Ingegnere Che fa l'ingegnere Per la piaggio 42 anni Una signora Che oramai Ha detto Tutto Ha fatto tutto Nelle quindi Che senza Che senza L'alzata di ingegno Di ieri Passerà inosservata Nella storia Dell'arbitraggio italiano Esatto Una signora Permalosa Arrogante Molto Molto Arrogante Una signora Che è venuta Qui A Gela Non so Che cosa Volesse Dimostrare Ribadisco Voleva lasciare Io mi auguro Voleva lasciare Un segno Del suo passaggio Nel mondo del calcio Fermo restando Che Simone Ha commesso Una leggerezza Ma leggerezza A mio giudizio Così come ce ne sono Tante Durante Una partita Volete arrabbiarvi ancora di più Con questa signora Magari poi ci vedrà In repliche Magari potrebbe anche Guardate cosa ha combinato Cinque anni fa Sappiamo Sappiamo L'arbitro Il Matera Sconfingono il Bisceglie Playoff A rischio Bisceglie Matera Sconto diretto Per i playoff La signora Carina Susanna Vitona di Livorno Espelle Tre giocatori Del Bisceglie Uno Rosso diretto Due Per doppia Ammunizione Della serie A volte Ritorna Quindi E' un vizietto C'è una regola Non scritta Nel regolamento Del calcio E' incredibile La regola non scritta Si chiama buonsenso Questa signora Non ha idea Di cosa sia il buonsenso Frango Aggiungo Chi sa arbitrare Non arbitra Non dimostra Di sapere arbitrare Con i cartellini Con i cartellini A destra e a manca Soprattutto a destra In questo caso Ribadisco Purtroppo Siamo incappati In questa signora Che ne ha combinate Di cotte Di crude La ciliegina Sulla torta Poi è stato Al 95esimo Dove Anche Anche Chi era Nei balconi Ha visto Tre giocatori Nella palmetria Presenti In balcone Purtroppo Paghiamo A carissimo prezzo Le nostre ingenuità Ma soprattutto Un arbitraggio Direi Scandaloso Prevenuto Che ha Avuto Sin Proprio Dall'inizio Negli spogliatoi Un atteggiamento Nei confronti Del Gela Non riesco a capire Perché Perché Noi siamo soliti Ospitare Tutti Gli arbitri In maniera Degna Adeguata Non Onestamente Non riesco A capire A comprendere Il perché Di Di Questo Accanimento E di questa Predisposizione Negativa Negativa Nei vostri confronti A penalizzare Una squadra Che Quest'anno Parecchio Ma parecchie Ma parecchie volte E' stata Penalizzata Da episodi Molto Allora Andiamo avanti Perché se no Rischiamo di impantanarci Proseguiamo con gli episodi E poi parliamo anche di altro Secondo tempo 40 secondi C'è un fallo A centrocampo Anche questo Era fallo Mezzo fallo Non è fallo Ma anche se fosse fallo Lo ammonisci Subito Giallo Rosso Fuori anche Kidichimo Ora io dico Qua credo però Che il nostro calciatore Qualcosina Più del dovuto L'abbia detta Ma sai che Rivedendola Effettivamente Non c'è manco il fallo Ma intanto non c'è il fallo Quindi non ci sta Nemmeno l'ammunizione Se non c'è il fallo Ma poi ti devo dire Che io pensavo Che avesse protestato Dicendogli qualcosa Non dice nulla Ma gli alza la mano Come per dire Ma dai Vedete voi le partite In Serie A Di tutto Di tutto Un arbitro Deve avere Soprattutto Chi ha esperienza Come L'ingegnere Di Livorno Che è stata presente Ieri a Gela Deve capire I momenti Della gara Le tensioni E non si può Però Giovanni Voglio bilanciare Anche i calciatori Devono capire Se di fronte C'è un arbitro Sbagliato Non in giornata Un po' nervoso E prevenire E chiaro E l'ho premesso Che noi abbiamo commesso Delle leggerezze Delle ingenuità Che abbiamo pagato A carissimo prezzo Abbiamo pagato A carissimo prezzo E fuori di dubbio Ribadisco Noi Dobbiamo fare Assolutamente Il mea culpa Assolutamente Lo faremo Fermo restando Però Che ci siamo Imbattuti In una Signora Che è venuta Qui a Gela A farsi La gitarella Domenica Giovanni Ma non sono troppi Gli arbitraggi Che hanno danneggiato Quest'anno il Gela Franco Io ce l'ho ben chiaro In mente Iniziamo da Messina No no Io non voglio Che tu fai Snorcioli Rosario Però ti chiedo Semplicemente Ma non sono troppi Sì troppi Ti sta dicendo Ti sta dicendo Implicitamente Se è proprio Una cosa voluta Che ci sono stati Arbitraggi Magari Tanti arbitraggi Sfavori Troppi arbitraggi Clamorosamente Sfavorevoli Che hanno determinato I risultati negativi A volte del Gela Allora io non è che Ti voglio chiedere Quanti Dove Perché Ma ti voglio chiedere È normale Tutti questi arbitraggi Contro E siccome tu non sei Un pivellino del calcio Te lo sarai chiesto Il perché Ti sarei data Qualche risposta Spero Magari se ce la giri Anche a noi È chiaro Che È evidente Che non siamo Ben voluti È evidente Mi dispiace Mi dispiace Dirlo Perché io Parto sempre Dal presupposto Della buona fede Perché altrimenti Non saremo qui Non saremmo qui Come dici tu A parlare Però Ho percepito È da due anni Che sono qui a Gela In un mese Siamo venuti due volte Sulla cronaca Internazionale Non nazionale Prima il gol di braccio Per un gol di braccio Con una palla finita Abbondantemente fuori E rientrata Che è andata in giro Per il mondo Tramite Povera Vibbonese E voglio sottolineare Voglio sottolineare Sempre la nostra Linearità E serietà Nei comportamenti Non mi sembra Che noi Abbiamo fatto Articoli sui giornali Proteste Allora Facciamo Una domanda Ancora più specifica Il Gela è in testa La classifica Per giornate di scuolifica Ecco Aspetta Ci arriviamo Franco Chiudiamo con gli episodi Vi faccio vedere Il gol Al 94esimo Della Della Palmese Perché Certo L'immagine è schiacciata Però La stessa immagine Dalla sensazione C'è uno zoom A meno che Non l'abbia colpito nessuno No 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 La sfida di testa Ecco il fermo immagine Il fermo immagine Il fermo immagine No no Sono tre giocatori Barra quattro In fuorigioco Tre giocatori sicuro Sicuro tre sì Tre giocatori E quello che Colpisce assolutamente La palla Non è assolutamente Ininfluente Nell'azione del gol Allora noi Guardate il fermo immagine Mi sembra Ecco già qui Due Tre E c'è un altro Che non si vede Eccolo qua Il numero due Ecco questo è il fermo immagine Mi sembra di sognare Mi sembra di sognare Sono quattro In fuorigioco Noi eravamo in un balcone Dove non potevamo vedere la scena Ma mi assicurano persone Che erano invece a bordo Sono quattro In fuorigioco Di fronte al guardaline Che sul cross Che parte dalla sinistra Il guardaline Aveva già la bandirina Ma guardate anche Che mi pare questo Anche questo Si è artistico A parte colui che ha segnato Davanti Davanti i biondi Sono due davanti la linea di porta E altri due sono Oltre a quello che segna Il numero sette Non mi ricordo Perché ti dico tre barra quattro Perché tre Sono quattro Sono quattro È incredibile Sono quattro È incredibile Non vogliamo fare Né il vittimismo Le immagini sono eloquenti E parlano più di ogni altro Ma pure ai giorni Mi dispiace Perché c'è chi scrive Fabio Cipolla vorrei dire Ma come fatti a dire Che fuorigioco Non avendo telecamere In linea e fermo immagini Nel momento della partenza Deve dire a Fabio Cipolla Che non siamo né Sky Né Metset Premium Probabilmente non soffriamo Di questa tecnologia Ma voglio dire A occhio nudo È evidente Che ci sono almeno Quattro giocatori Il numero otto Credo che sia il numero sei No il sei È il Cucinotti Quello che ha segnato Il sei è il due Sono in evidente No però Fabio Cipolla Devo dire che ha una ragione Nel senso che Noi stiamo vedendo L'immagine Quando il giocatore Della Palmese Impatta il pallone Fabio Cipolla Giustamente potrebbe dirci Però se c'è fuorigioco Il fuorigioco Va segnalato Nel momento in cui Stacca la palla Il giocatore che la crossa Quindi ha ragione Fabio Cipolla Nel dire Se non abbiamo Però sicuramente Chi era lì Praticamente Compreso noi Che eravamo distanti E dal balcone Si notano Che i giocatori Della Palmese Sono sicuramente Avanti a quelli del giro Però Franco Vorrei dire a Fabio Se il guardalini Alza la banderina Poi l'arbitro Dice no Vai a centrocampo E la riabbassa Anche il collaboratore Aveva alzata la banderina E chi era in linea Non noi Ma altre dette lavori Erano in linea Hanno tutti notato Che il fuori gioco È nettissimo Non netto Non stiamo scherzando Fabio Io capisco che A Fabio piace Sempre Far emergere Una sua verità Cioè quella di Sbagliamo sempre Noi Sbaglia sempre il gioco Sbagliano sempre i giocatori Gli altri non sbagliano mai Quindi è sempre colpa Del gioco Lo capisco io Però intanto Non siamo Né Sky Né Premium Perché non possiamo Ci piacerebbe Avere più telecamere Ma ieri tra l'altro Abbiamo andato in condizioni Non pessime Primitive Vabbè ma Penso che le immagini Siano E lo parlano Da sé Non c'è bisogno Di ulteriori commenti Quale giocatore Deve essere in linea Del Gela Che si stacca All'ultimo momento Non lo capisco Non lo vedo Il più vicino Forse è Campanaro Ma neanche Campanaro Mi sembra così Così Il 6 è Se vai sul fermo immagine Il 6 è sulla riga Dell'aria piccola Sì Cucinotti È quello che ha segnato Comunque Tra l'altro C'è però Anche chi scrive Come Simone Di Dio Che è il secondo assistente Voleva dare il fuorigioco Nel suo gesto Si vede Perché era a due metri Dietro la ringhiera E guardando l'arbitro Non ha avuto però il coraggio E ha convalidato il gol Scrive anche Che il gol Lo fa chi crossa Nessuna deviazione Ma tutti partecipano All'azione No 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 La palla cambia traiettoria Viene sfiorata Quindi voglio dire Poi ognuno magari L'ha vista A modo suo Però per quello che noi Abbiamo visto Sia dal balcone Ma anche dalle immagini Campanaro che è l'ultimo uomo Il più vicino a Biondi È sempre a mezzo metro Dall'autore del gol Guardate i tre La linea C'è la linea È eloquente Giovanni non ha il microfono Giovanni non ha il microfono Sembrano le immagini eloquenti Sarebbe bello inviarle Ma ieri l'osservatore dell'arbitro Sì ha visto le immagini Su mie indicazioni Però posso dire una cosa Che Mi dà un po' di conforto E lo da Me la dà Questa spiegazione Il conforto Alla luce del fatto Che io alla fine Voglio sempre pensare Che non c'era malafede Il gol di Moi È un tocco di mano Netto Sì involontario Ma c'è Assolutamente Fabrizio Non esiste più l'involontarietà Assolutamente La palla gli sbatte sotto il gol È onesta e intellettuale La palla gli sbatte sotto il gol Assolutamente Croci Ti abbiamo non tenuto da parte Ci mancherebbe Abbiamo fatto parla Perché abbiamo parlato Sostante più di calcio Quindi abbiamo Ci siamo distratti Con Invece vorrei sapere La tua La sensazione La dirigenza Dopo questa partita Avete sofferto insieme a noi In questo balcone Di questa famiglia Qual è stata la vostra sensazione C'è più Diciamo Il conforto Che i ragazzi in nove Hanno lottato come leoni E strameritavano di vincere O c'è la rabbia Verso questa direzione Arbitrale così avversa Va bene La rabbia Verso Quello che è successo Sicuramente Perché I ragazzi non meritavano Alla fine Alla fine Questo Perché hanno lottato Per tutto Per tutta la durata Dei due tempi Quindi Non meritavano questo In otto In otto e nove Hanno dato più di quello Che dovevano E quindi Hanno Hanno lavorato bene Ieri i ragazzi Purtroppo Per quanto riguarda Gli albitraggi Siamo Siamo Cioè abbiamo sempre avuto Questi problemi Perché come diceva Come diceva Martello Da quello che Che si evince Non siamo proprio Ben voluti E ben visti Insomma Non siete ben voluti E ben visti dagli arbitri Non siete ben voluti E ben visti Dall'amministrazione comunale Non siete ben voluti E ben visti Cominci l'assist Franco Io dico sempre una cosa Ma sai perché Io dico sempre una cosa Se io bisticcio con te Non me lo togli nessuno Nella testa che ho ragione io Ma se bisticcio con te Con Giovanni Con Chiara E con Fabrizio Un attimo Mi fermo Dico Oh No aspetta Può essere che forse io un po' Con gli arbitri E tutta un'altra storia Con quella che è l'amministrazione Sì Su questo Purtroppo Come sono andate le cose Sì ma Cominciamo dagli arbitri Perché ce la dovrebbero avere con Nigela Perché ce la dovrebbero avere con voi No perché c'è qualcosa Cosa Non saprei Cioè non Cioè questo Non so darti risposta Però Se visto più volte Che c'è qualcosa che non va C'è una forma C'è sono Come ti posso dire C'è come vedi Scusami Lo chiedo Lo chiedo a quel vecchione Che conduce alla trasmissione Quanti anni è che non ti ricordi Una stagione con arbitraggi Così negativi Nei confronti del Gela Tanti perché mi ricordo Compensazioni Poi no Errori Due gare sfavore Cioè quello che è Diciamo nella legge Non scritta del calcio Che a fine stagione Torti e favori Si compensano Questo è successo Negli ultimi Di solito è così 15-20 anni Di solito è così Che seguiamo Diciamo in maniera più Intensa il calcio Di solito è proprio così Esatto Non ci sarebbe più nemmeno Il tempo per compensare Cioè dice Partendo dalla prossima gara Fino alla fine del campionato Tutte le partite Gli arbitri a favore del Gela Non compenseremmo lo stesso Perché matematicamente Non ci sono le giornate Per compensare i torti arbitrali Che ha subito Finora il Gela E quindi qualcosa di strano C'è stato C'è C'è successo Ma Croci Questo pareggio Questo finale di campionato Così assurdo Anomalo Vi stimola Vi incoraggia A parte dei problemi strutturali Di cui parliamo Tra qualche standard Perché non abbiamo dimenticato Anche il problema Presti Però Questa è una cosa Che vi fa Provoco Una rabbia positiva O scoramento A tal punto Forse è meglio Che facciamo un anno Ciao a tutti È stato bello Si faccia avanti Qualcun altro Per come A presto A presto A presto Grazie.